Buonasera a tutti e bentornati a BlockNotes. Oggi in studio con noi abbiamo Francesco Luciani, benvenuto, presidente del Museo Ferroviario di Suno. Esatto. Innanzitutto il Museo Ferroviario, che è un museo strano, molto particolare. È un museo prettamente storico, non pensiamo al Museo Ferroviario magari pensando solo alla parte tecnica con i treni, è un museo storico dove sono all'interno custoditi documenti cimeli che raccontano proprio la storia della ferrovia. Sono ricreati degli ambienti per poter insegnare, far capire quella che era la ferrovia che non c'è più, diciamo. Quella ferrovia fatta un po' più di persone, un po' meno tecnologica come la viviamo al giorno d'oggi. Ambienti di che tipo? Allora, ambienti del tipo che abbiamo ricostruito uno scompartimento di terza classe, con le panche in legno e i suoi portabagagli sempre in legno, per far accomodare le persone e far capire come si viaggiava una volta, quando i viaggi erano lenti e quindi molto lunghi e non tanto comodi magari. Abbiamo ricostruito una cabina delle prime locomotive elettriche, per far vedere come era seduto e come si manovrava una locomotiva ormai in disuso che sono ormai considerate storiche, rispetto a quelle moderne che hanno praticamente due joystick che sono totalmente computerizzate, diciamo, le nuove locomotive. Abbiamo un piccolo ambiente e altri ambienti stiamo, piano piano verranno, un ambiente dedicato, una stanza dedicata proprio al ferroviere come persona, dove sono costruite tutte le divise in ordine cronologico e anche per amministrazione, abbiamo quelle classiche, diciamo, delle ferrovie dello Stato, però non dimentichiamo che ci sono anche amministrazioni private, qui a Novara conosciamo per dire le ferrovie Nord, abbiamo anche divise appunto delle ferrovie Nord e di altre amministrazioni, sempre in ordine cronologico, per far vedere come vestivano, come sono cambiate le divise nel tempo, i loro strumenti, le lanterne, la classica pinzetta per bucare i biglietti che i più giovani non ricorderanno neanche e tutte queste cose che insegnano, fanno capire qual era il ruolo del ferroviere, anzi quali erano i ruoli di tanti ferrovieri che hanno poi fatto grande la ferrovia. Abbiamo un locale dedicato a quello che viene chiamato armamento, cioè proprio alla ferrovia intesa come strada ferrata, dove abbiamo una sezione di binario con tutti poi esposti i chiodi, i ferri, gli attrezzi che servivano appunto a costruire proprio quello che era il binario. Questo per far capire che si è passati da dei chiodi a delle viti moderne, addirittura delle viti che grazie al progresso hanno anche dei trattamenti superficiali, galvanici per durare di più nel tempo, insomma, a ripercorrere la storia delle ferrovie ma anche qui il progresso che c'è stato per permetterci di avere una ferrovia come adesso che ci permette di viaggiare a 300 all'ora, ma per arrivare a questo siamo dovuti passare dai chiodi piantati a mano. Un bel periodo di pezzi, ma come avete fatto a recuperare tutti questi cimeli? Allora, inizialmente era una parte, era la mia collezione, io non sono un ferroviere, sono un appassionato e ho iniziato a collezionare un po' di materiale. Andavo, quando c'erano dei lavori in corso di rinnovo delle ferrovie, andavo in questi cantieri quando ancora si poteva, che c'era un pochino più di libero accesso e insomma cercavo di, chiedevo di poter avere qualche cosa che rimaneva lì, andava buttata nel ferro, detto proprio così, e pian piano accumulato. Ho fatto lo stesso per divise cappelli, avendo la passione appunto delle fotografie, facevo le fotografie alle stazioni, facevo le fotografie ai treni, ferroviari e tutto quanto e sono contento perché a distanza di 20-30 anni certe fotografie sono ancora esposte in alcune stazioni. In cambio di queste fotografie le stampavo, le regalavo, loro le tenevano nel loro posto di lavoro nella stazione, magari mi davano il vecchio cappello, la vecchia divisa, da quelle cose che erano nell'armadio, che io dico meglio in un museo che… Che in giro, la patumiera. Che a far cibo per tavoli, dico io, esatto. Quindi sono riuscito a partire così, insomma. Poi fortunatamente, all'inizio era una collezione privata, quando si hanno pochi pezzi uno se li tiene lì per guardarli, quando poi i pezzi diventano un po' troppi si inizia anche a tenerli in cantina, cioè uno non li gode più. E da lì è nata l'idea di un museo, per poter godere io stesso dei pezzi, ma anche per poterli condividere e coinvolgere anche appassionati che volessero appunto portare la loro collezione. Ma scusami, adesso mi sto pensando, ma tu in casa avevi un pezzo di la panca con… Quella è arrivata dopo, però che avevo in casa qualcosa come 40-50 cappelli, decine di divise, così, sì. Sì, forse sì. Infatti sono arrivato un momento che avevo pure che mio moglie gli dicesse… Basta, o tu? … o è fuori tuo, o è scolloro. Fortunatamente ci siamo trasferiti a Suno. Ma pensavo in una casa più grande? No, 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 la casa è grande, quindi ci stava tutto, però Suno ha avuto la fortuna di trovare un sindaco che è riuscito ad appoggiarmi in quest'idea. Il comune stesso si è interposto tra noi e le ferrovie, perché noi eravamo una piccola… siamo partiti come una piccolissima associazione, non che adesso siamo una grossa associazione, siamo avviata, un po' più grossa, siamo conosciuta nel territorio, però siamo ancora piccolissime. Quindi le ferrovie non potevano direttamente dare a noi lo stabile incomodato, il comune si è fatto carico di farsi da garante, diciamo, e abbiamo avuto lo stabile per poter partire. Anche perché poi tanti stabili sono ormai caduti in disuso. E questo sarebbe stato uno di quelli, detto proprio così, era in disuso. Ci sono voluti non poco tempo per ripulirlo, risistemarlo, renderlo un po' più accogliente. Sì, è quella irriagibile, insomma, perché chissà com'era, con i vetri rotti, porte che non andavano. Eh, qualche vetro rotto sì, le porte… Avete dovuto cambiarle, perché con le norme attuali nelle sicurezza, ovviamente. Sì, 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 no, purtroppo è così e molte stazioni sono così. Infatti quello che noi raccontiamo sulla differenza della vecchia ferrovia, della nuova ferrovia, è un aneddoto che io ricordo quando ero un bel po' più giovane, che erano le prime volte che uno usciva di casa, andava in giro a 14, 15 anni, pigliava il treno o andava in giro anche in bicicletta e in motocicletta, a me mi veniva sempre detto, se tu hai un problema in un paese vai in stazione, trovi sempre una stanza calda, un telefono e una persona che ti può dare una dritta, un aiuto, un consiglio. Da un posto sicuro che erano, molte stazioni sono diventate quasi dei posti da evitare, purtroppo. Lo dico perché le stazioni quando vengono proprio impresenziate, come il termine tecnico è impresenziate, diventano purtroppo, soprattutto se sono un po' periferiche, metadi, insomma non diventano il salotto buono del paese. No, certo, ecco, diciamo che è meglio evitare quegli spazi, però insomma riutilizzarli invece in questo modo, dà una seconda vita, dà una seconda opportunità allo stabile e soprattutto è sempre in linea con la funzione, diciamo che aveva avuto precedentemente. Sì, in questo caso il museo in una stazione è perfettamente contestualizzato, altre stazioni fortunatamente sono andate anche ad associazioni, qualcuna alla Croce Verde, qualcuna alle varie associazioni di volontariato, ecco, nel nostro caso siamo molto contestualizzati, nel senso che la stazione stessa essendo una delle prime della linea e anche lo stabile fa parte del museo, proprio lo stabile a sé è uno stabile storico, i gradini sono ancora quelli di sasso in una stanza in basso, si vedono ancora dei discorci della vecchia pittura, ancora con le sue decorazioni, purtroppo non è completa, però si vedono, si può capire la cura che c'era una volta anche in queste piccole cose e quindi la stazione stessa insomma fa, è il museo, è il museo ed è un cimeglio del museo, infatti uno dei progetti futuri è riuscire domani con l'autorizzazione appunto delle ferrovie a riportarla nella colorazione rossa, adesso è gialla, non so come mai ha cambiato colore nel tempo, riportarla nei colori storici, visto che è un museo comunque non è che andremmo a stravolgere lo stabile a cambiare di forma, semplicemente gli si mette quello che era il suo colore con le sue scritte di una volta, qualche stazione sulla linea ha mantenuto ancora queste scritte, insomma volevamo provare anche noi a intraprendere questa strada e riportarla indietro di qualche decina d'anni, insomma, anche di più quindi noi eravamo arrivati, il fatto che avete trovato, io poi ti ho interrotto, scusate, sono curiosa assolutamente quindi, allora, eravate, siamo arrivati qua dunque, avete chiesto al sindaco di fare da intermediario e le ferrovie dello Stato hanno detto yes, procediamo non con questa facilità, ma sì, perché la burocrazia è stata un po' lunga diciamo che yes we can, vabbè, con un po' più e quindi poi non sei più stato solo tu, avete creato appunto nel frattempo l'associazione siamo partiti che comunque eravamo un piccolo gruppo, 3-4 persone a cui poi si sono aggiunte altre persone tra soci e volontari adesso siamo una decina, insomma, comunque anche qualcosa in più con i volontari in determinati momenti, quindi non siamo tantissimi, però siamo già un gruppo tale per cui si riesce a intraprendere anche dei bei progetti, dei lavori importanti, quando c'è da fare qualche cambiamento, quando c'è da allestire una mostra, noi non tanto tempo fa eravamo proprio qui a Novara con una mossa al castello, di modellismo ferroviario, insomma, questo è il gruppo che appunto avere tante persone che si sono alternate, hanno permesso questo, insomma, coinvolgere anche tutte le associazioni, altre associazioni di modellismo che hanno appunto esposto al castello, insomma, si è riusciti perché comunque eravamo, non ero da solo, ecco, detto proprio così. Io infatti non smetterò mai di ringraziare tutti i ragazzi giovani e i meno giovani che mi danno una mano, nel senso io coordino, però da solo non potrei, quindi assolutamente, non mi piglio il merito di tutto, io ho solo lanciato, ho messo la prima pietra, poi in realtà… E poi è andato avanti. Sì, sì, sì. Ma quindi nel frattempo sono arrivati altri pezzi? Sono arrivati altri pezzi, sono arrivati altri pezzi tra chi, tra i soci che anche loro avevano qualcosa e hanno messo qualcosa a disposizione del museo per arricchire la collezione e poi col fatto che il museo pian piano si è fatto conoscere, qualcuno diceva, ah guarda che io ho questo, guarda che mio nonno era ferroviere, ti faccio avere questo. Qualcuno ha chiamato anche magari in situazioni un po' meno piacevoli, nel senso che magari era venuto a mancare qualcuno che aveva la stessa passione e ci siamo trovati a svuotare cantine garage di materiale che per noi era come aver vinto il Supremo di una lotto perché c'erano dei… era un signore già anziano, quindi c'erano pezzi molto vecchi, pregiatissimi, che adesso sono esposti al museo e insomma che stiamo cercando anche di restaurare e dargli una nuova visibilità e tutto quanto, anche perché da quanto c'era stato detto appunto dalla moglie, dalla vedova insomma, lui avrebbe voluto un domani riuscire a portare a compimento un progetto simile al nostro, quindi è stata molto contenta che tutti quei pezzi comunque andassero in un museo, avessero la visibilità che avrebbe voluto appunto il marito e insomma così. Scusate, adesso hai detto una parola magica perché anche questo mi… cioè io vado in un museo, ho una tela, una scultura e il restauratore ho ben chiaro chi sia, ma i restauri dei vostri pezzi chi li fa? Noi, allora, noi restauriamo la parte proprio quella, il ferro, ok? Proprio il materiale grosso così, perché documenti, divise, cose così, non abbiamo né i mezzi né la conoscenza o la capacità per poter restaurare un documento o del tessuto. Fortunatamente per adesso abbiamo un materiale in buono stato, quindi che si può anche esporre tutto quanto, ci preoccupiamo di mettere sempre nelle tasche delle giacche e le antitarme per evitare un deterioramento o un decadimento della qualità del prodotto, insomma. E cosa facciamo? Quando ci arriva qualche pezzo che magari è alluginito, un po' scolorito e tutto quanto, parte una ricerca tra tutti, perché poi tra tutti il bello è che siamo un gruppo etereogeneo, chi è più improntato sul lato storico, chi più sul modellistico, chi più sul vecchio e chi più sul nuovo. Quindi parte la ricerca tra chi è interessato di quel materiale per sapere se quello è il colore originale, quelli sono i numeri corretti e tutto quanto e poi si inizia a lavorare, nel senso si svernicia, si cerca la vernice del colore giusto, si rivernicia, se era una vernice di quelle che vengono chiamate martellate, con quell'effetto un po' particolare, si cerca una vernice che abbia le stesse caratteristiche e si riporta a quello che era lo stato d'origine. Si fa anche qualche foto di tutte quelle che sono i passaggi nel mezzo del restauro, perché comunque un po' per noi è un po' per ricordarci anche quello che abbiamo fatto, ma anche perché domani vorremmo fare anche dei quadretti dei restauri per far vedere come si è arrivati a quel risultato. Quindi la parte così la gestiamo noi, nel senso che piano piano, ognuno magari porta a casa un pezzo, lo fa in settimana, perché noi solitamente ci si trova al fine settimana, lavoriamo tutti, perché è un'attività appunto retta dal volontariato, quindi è un anno profit l'associazione, anche l'ingresso al museo è gratuito, abbiamo un contributo d'aiuto da parte del Comune, ci reggiamo su su chi vuole lasciare un'offerta o comunque tra di noi ci gestiamo, ci tassiamo per portare avanti il progetto. Fantastico, ma anche perché veramente io ho visto il vostro sito, si vedono le vostre foto, a parte che lo ribadisco, un bel sito, quindi chiunque voglia andare, sul loro sito trova tutte le indicazioni possibili, immaginabili, perché raccontate tutto perfettamente anche lì. Ma poi siete tutti molto giovani, nel senso che uno pensa al museo ferroviario e si immagina i signori ottantenni. No, fortunatamente siamo tutti giovani, ci mancano magari qualcuno che abbia più disponibilità di tempo, che magari da impegnare durante la settimana per qualche piccolo, facile ma lungo progetto. No, in questo momento abbiamo tutte persone impegnate al lavoro e quindi dobbiamo riuscire a concentrare i lavori durante il fine settimana, quando non c'è l'apertura e conciliandoli poi con quelli che sono impegni familiari di casa e eventualmente qualcuno, se si può farlo da casa, si porta a casa qualcosa da ristrutturare, da sistemare, qualche ricerca da fare, perché c'è chi fa la ricerca, c'è qualcuno che invece segue il sito, come dicevamo prima, i social, quando c'è qualche apertura si parte col fare i post per ricordare che c'è l'apertura e tutto quanto, condividi, fai, avvisa gli altri. Insomma, per fortuna la tecnologia ci viene d'aiuto, nel senso che tra di noi abbiamo un gruppo Whatsapp, come ormai ne esistono di migliaia e riusciamo a tenerci aggiornati l'un l'altro su quello che stanno facendo un po' tutti, nel senso che siamo stati anche un po' coinvolti anche in alcune pubblicazioni, c'è stata una pubblicazione sui 130 anni della linea Novara Luino nel 2018, in questa pubblicazione un piccolo capitolo era dedicato al museo, appunto perché la stazione di Suno è su questa linea. Molte delle fotografie sono di un nostro socio e un altro nostro socio ha curato la stesura della parte storica, quindi ci occupiamo anche di quelle che sono un po' il trasmettere anche tramite libri che qualcuno magari ci permette di metterci qualche cosa del nostro, con i nostri documenti e quant'altro, di trasmettere appunto la parte storica che conosciamo e che è quella che vogliamo un attimino far conoscere anche sui libri di altri, noi non ci mettiamo il nome, stiamo facendo una piccola pubblicazione a nome del museo per ricordare la vecchia ferrovia ormai dismessa dal 24 da Gozzano ad Alzo, che era quella che serviva per il granito bianco che veniva estratto sotto la Madonna del Sasso. Abbiamo fatto articoli del museo su riviste di settore e anche su libri dove ci sono dei racconti ferroviari e hanno accettato un capitolo appunto che raccontava, come stiamo parlando adesso, com'è nato il museo insomma, che è nato un po' da un sogno, da una cosa così e poi fortunatamente si è concretizzato in quello che è adesso, insomma in una bellissima realtà, bello stabile, bella esposizione del materiale e bella gente che comunque riusciamo a coordinare e fare. Ecco, ma se uno volesse venire a visitare il museo, una cosa deve fare? Va bene, allora il museo ha delle aperture calendarizzate. Prima di tutto, come vi ho detto prima, guardate il sito e i social, lì ci sono tutte le date, c'è la pagina del calendario e quant'altro. Museo Ferroviario di Suno. Museo Ferroviario Suno.it. Ok. Perfetto. Allora, lì c'è proprio la sezione calendario e c'è tutto. Perché dico questo? Le aperture calendarizzate è sempre la prima domenica di ogni mese, tranne agosto e gennaio, poi abbiamo serali il 3 ottobre, che va a ricordare la ricorrenza della nascita delle ferrovie in Italia, il 5 luglio, che va a ricordare la ricorrenza della nascita delle ferrovie dello Stato in Italia e il 25 aprile. Se cade in un ponte potrebbe avere un giorno in attaccato, come quest'anno è stato 24-25, che è invece proprio l'anniversario della nascita del museo. Però spesso accade, come è successo ieri, che da quest'anno abbiamo aggiunto la data dei musei, quello internazionale, e ieri sera eravamo aperti. Quindi quando ci sono delle aperture che non cadono di domenica, facciamo l'apertura serale, 9 e mezzanotte, noi ne intitoliamo una notte al museo come il noto film. Anche perché voi lavorando di giorno… Ah, proprio per questo. Quando è di domenica si sa che è di domenica, insomma, un po' come la Pasqua, ma invece le altre date cadono, magari non si sa quando cadono, quindi facciamo un'apertura serale proprio per… Bella fresca, comunque in questo periodo le aperture serali sono migliori. Ieri si stava benissimo. Infatti, immagino, io concordo. E abbiamo fatto anche una bella pubblicità sui social e nonostante fosse il primo anno abbiamo avuto un buon riscontro. Siamo stati molto felici di questo, sì sì. E quindi suggeriamo appunto di guardare il sito perché tante volte si aggiunge qualche data o qualche volta veniamo coinvolti, magari anche all'ultimo, in giri… come possiamo dire? In cose un po' particolari, dove qualcuno organizza un giro… A settembre, sì. A settembre abbiamo un'apertura che il motoclub di Gagliate ci ha chiesto, ci piacerebbe, noi facciamo un motogiro e fare una tappa da voi. Quindi abbiamo questa apertura che è un po' fuori calendario, però già che siamo aperti, se qualcuno si vuole affacciare e venire a fare un giro, ben venga, siamo lì a posta. Quindi avremo… anzi, se a qualcuno gli piacciono anche le moto si troverà anche uno stuolo di moto parcheggiato e fuori. Praticamente dai treni alle moto, tutti i mezzi di locomotion. Sì, sì, quindi noi quando ci chiedono, magari a volte veniamo coinvolti da qualche piccolo giro turistico dove ci chiedono di far tappa, insomma, siamo in una bellissima zona, quindi tante volte qualcuno si ferma lì, poi va a vedere le vigne, poi va a vedere il Lago d'Orta, il Lago Maggiore, insomma, siamo in mezzo a tante bellezze del territorio, quindi è anche facile essere intercettati. Noi, appunto, usiamo tutti i social proprio per essere il più possibile visibili in maniera tale che chi passa ci incontra, insomma. E se uno, per esempio, invece volesse, non so, organizzare una cosa a parte? Assolutamente sì, con un pochino di anticipo in maniera tale che ci organizziamo e sempre o telefonando, scrivendoci un'e-mail, organizziamo un'apertura apposita, insomma, su appuntamento, assolutamente nessun problema, è già successo, più che volentieri, insomma. No, anche perché, insomma. Anche per le scuole. Ecco, perché stavo proprio pensando, anche perché credo che sia un museo estremamente interessante per le scuole. Sì, poi uno dei punti di forza che ci viene un po' riconosciuto è che non è un museo così grande dove uno è abbandonato, cammina e legge le targhette. Noi non abbiamo tante didascalie, noi li accompagniamo, le persone. Ah, ecco. E quindi gli spieghiamo e tutto quanto. E poi, insomma, se sono bambini cerchiamo di avere un linguaggio molto semplice che gli racconta la storia. Poi c'è l'appassionato dove magari ci si può anche un po' sbizzarire in termini tecnici, se no comunque la classica famiglia si racconta anche quelli che erano un po' gli aneddoti legati alla ferrovia o sono loro stessi a ricordarsi di quando magari usavano il treno e sono loro a raccontarlo a noi. Ah, io il treno lo prendevo, ah, io quelle panchette me le ricordo, quello in legno, quando andavo a scuola e tutto quanto. Insomma, è anche un visitare il museo e anche un po' rivivere tante esperienze proprie. Non solo venire a conoscenza di esperienze degli altri, dei ferrovieri, ma anche un po' rivivere le proprie, insomma è un riavvicinare anche la gente a un mezzo di trasporto che oggi andrebbe rivalutato, insomma in termini, quello che viene chiamato l'ecologia, tutte queste cose, il treno, in questo momento è quello che ci potrebbe permettere di avere i migliori risultati, però non viene giustamente sfruttato e valutato, soprattutto nella nostra regione. Vorrei, non vorrei sembrare polemico, ma purtroppo è così. Eh no, questo è vero. Ma comunque adesso parte di tutto. I treni sono, insomma, affascinano. Sì. I treni affascinano comunque i bambini, il trenino, gli adulti, il modellismo. Quindi è qualcosa che veramente piace a tutti, grandi e bambini, indistintamente. Abbiamo pochissimo tempo ancora e volevo chiedere l'ultima cosa. Sì. Allora, avete dei progetti futuri, qualcuno ce l'hai detti? Qualcuno ve l'ho detto, abbiamo un piccolo… allora abbiamo un altro locale vicino che è il magazzino che sarà adibito a nuovi locali. Verranno fatti di nuovi locali dove poter vedere com'era la ferrovia di una volta e saranno sempre ovviamente legati alla ferrovia di quella che era. Però non vi dico altro così sarà una sorpresa. No, perché se no facciamo lo spoiler. Allora, quello che invece si può vedere perché è già fuori, c'è un mezzo ferroviario piccolino di spezione, quei vagoncini gialli piccolini che verrà restaurato e lo avremo lì, insomma che uno può vederlo da dentro e tutto quanto, nei tempi che riusciamo a avere insomma per le persone che siamo, però è lì. Ce l'abbiamo già e pian piano lo faremo. Anzi, colgo l'invito, chi vuole venire a darci una mano, dare qualche ora del suo tempo e vuole condividere con noi questa passione, aperti a tutti. Benissimo. Allora, ringraziamo Francesco Luciani per averci raccontato di questo bellissimo museo. Grazie a voi dell'invito. Posso dire che ho tanti amici che sono andati in visita presso di loro, sono tornati tutti entusiasti. Meno male. Sicuramente. Questo ci fa solo felici. Allora, grazie a te di essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi di averci seguito. Buona serata e alla prossima. Grazie a tutti.